Secondo i dati disunti da Twitter e rilevati da Vox, l'osservatorio italiano sui diritti da tutti consultabile online, il 49% dei messaggi negativi, cioè di odio, rilevati fra settembre e dicembre 2020 colpisce il mondo femminile. Dal body shaming al lavoro, il 18-45% colpisce gli ebrei, il 12% la comunità musulmana per arrivare al 32% ed oltre nei confronti dei migranti. Eppure qualcosa in positivo si muove nella consapevolezza dei diritti, se la mappa dell'intolleranza di Vox ha rilevato che fra marzo e settembre dell'anno scorso sono più i tweet positivi dei tweet negativi, il 57% contro il 43%. Più colpiti come sempre, i migranti, le donne, gli ebrei musulmani non cresce invece ma si stabilizza l'odio contro le persone omosessuali e le persone con disabilità. La quinta edizione della mappa dell'intolleranza, il progetto ideato da Vox in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di Bairro al Domoro, la Sapienza di Roma e It's Time dell'Università Cattolica di Milano, sottolinea due dati. In giro ci sono meno odiatori, non più concentrate nelle grandi città, ma quelli attivi sembrano dimostrare un accanimento quasi professionale. Nella giornata internazionale della lotta contro l'omofobia va detto che se l'intolleranza omofobica diminuisce, se si parla di famiglia arcobaleno, l'odio è più che mai violento. Oggi, alla luce delle pari dignità sociale e dell'uguaglianza di fronte alla legge, a prescindere da caratteristiche personali come stabilisce l'articolo 3 della nostra Costituzione, promuovere una cultura dei diritti LGBT, persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali è vitale per la nostra democrazia, così come tutelare tutte le dimensioni della persona contro l'odio e la violenza innanzitutto, ma anche contro tutte le varie forme di discriminazione e di ghettizzazione dei diversi. L'ultimo sondaggio dell'Unione Europea sull'omofobia rivela che in Italia il 92% delle persone LGBT viene discriminata a causa del proprio orientamento sessuale. Peggio di noi, solo la Croazia, la Lituania. In un'Europa che vede da una parte paesi più aperte e tolleranti come Finlandia, Spagna e Regno Unito, dove sono riconosciute le unioni civili e i matrimoni per le coppie dello stesso sesso, dall'altra l'Italia, la Grecia, la Croazia e la Lituania, marchiati come paesi meno virtuosi per la mancanza di politica LGBT e per l'alto tasso di discriminazione nei confronti degli omosessuali in ogni ambito della vita pubblica. Un dato interessante riguarda i politici. Considerate le persone LGBT i peggiori omorfobi d'Europa, in quanto a uso di un linguaggio offensivo e discriminatorio e in generale a comportamenti poco aperti nei confronti delle diversità.